E allora, amiche ed amici, eccoci qua. Bentornati e benvenuti per una nuova puntata di Sfida Pastore. Il nostro nuovo concorrente si sta sedendo al tavolo. Un caloroso benvenuto e un grande buona fortuna ad Alessandro Lupo. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Ciao Alessandro. Come stai? Prima cosa ti dico di tirare giù il tablet, ma non perché non mi fidi, ma giusto per entrare nel clima del quiz. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. E dalla parte sinistra del tavolo, l'unico, inimitabile, Giuseppe Pastore. Che ho perso le ultime tre sfide. Viene da tre sconfitte. Tre sconfitte consecutive, ma con un solo punto. Sfide tiratissime fino alla fine. C'è tanta amarezza, ma la squadra è ancora con l'allenatore. Allora, Alessandro, ti concediamo un minuto di tempo più o meno per presentarti, presentarti a tutti gli amici a casa che devi conquistare. E poi ci sveli l'argomento di stasera. Allora, sono appunto Alessandro, ho 25 anni, sono qui di Milano e... Sono qui per cercare di battere anch'io, Pastore. Ragazzi, guardate, siete pronti. Battere anch'io, capito? Siete pronti a vedere sul monitor l'argomento di stasera. Io non mi giro, non voglio vederlo di là. Giuseppe non si sta girando, io l'ho già messo. Io voglio vederlo di là. Allora, aspetta un attimo. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Fermi tutti. Beh... Tiro giù le luci. Fermi tutti. Sapete perché? Guardate come brilla quella coppa. Guardate come brilla quella coppa, ragazzi. Abbiamo goduto tantissimo. Che lavoroso. Quella sera. Quella sera di luglio nel 2006. Nazionale popolare, molto bene, molto bene. Esatto, mettiamo d'accordo un po' tutti. Sì, sì, nessuno può... Tutti sanno di cosa stiamo parlando. Quindi è un argomento importante. L'Italia, quindi non il mondiale, ma le sette partite. Cioè, è anche difficile trovare, secondo me, una... Eh, infatti ha dato del filo da torcere. C'è di un'ora su sette partite. Ma lo voglio scoprire. Esatto, lo scopriremo insieme. Lì, tra l'altro, c'è la mystery box, che rimarrà mystery fino a quando. E solo se Alessandro batterà Giuseppe, che lo ricordiamo, viene da un momento di difficoltà. C'è chi diceva verrà esonerato. No, vabbè, tanto... Invece no. Per scherzare, Tranco95 dice po 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 po. Ragazzi, stasera si gode. Stasera si gode, ve lo dico. Direi di partire subito con la prima domanda. Datemi il via. Via, via. E allora si parte. Allora, ragazzi. Prima domanda. Quali giocatori non furono più convocati in nazionale dopo quel mondiale? Si è prenotato Alessandro. Vediamo. Se partiamo subito forte. Convocati. Sicuramente Totti, che si è ritirato dopo quel mondiale dalla nazionale, non ha più giocato una partita. Peruzzi, che dopo si è ritirato appunto col club, con la Lazio. Credo Barone anche. Mi devi dare l'ok quando sei convinto dei giocatori che hai dato. Proviamo questi tre. Quindi, ricapitolando, devi dirli? Totti, Barone e Peruzzi. Vediamo. La risposta non è corretta. Ci può provare Giuseppe? Totti e Peruzzi. Vediamo. Risposta esatta. Totti e Peruzzi sono gli unici due giocatori presenti in quel mondiale che, dopo quella serata del 9 luglio 2006, non saranno più convocati con la nazionale italiana. Maggiore. Hai fatto proprio lo sciacallo qui, ovvio. Cari amici, godiamo insieme con questa domanda. La seconda. Quante volte Fabio Caressa urla Totti dopo il rigore contro l'Australia? Si è pronotato Giuseppe? Dieci. Facciamo una cosa. Lo riascoltiamo, così verifichiamo insieme se Giuseppe ha detto giusto. Giuseppe, io farò ascoltare questo audio. Tu, se riesci, fai il conto con la mano, così ci vedono anche da casa. Vediamo. 1-0 e quindi risposta esatta. Sì, la raccontata Caressa che non era casuale, naturalmente, che fossero dieci, naturalmente. Risposta esatta, dieci, quindi Giuseppe si porta sul 2-0, ma godiamo ancora. Bene. Quante volte Fabio Caressa urla sotto la doccia dopo il rosso a Zidane in finale? Vediamo chi si prenota. Si prenota, Giuseppe. 3-0. Vediamo. Invece no. Diamo la possibilità ad Alessandro di rispondere e poi faremo sentire anche l'audio. Questo punto 2? Andiamo. 4-0. Eh no, sentiamolo. 4 ragazzi, esatto. Era proprio 4 e quindi né Giuseppe né Alessandro fanno punti. La risposta esatta la faccio anche vedere, anche se l'abbiamo sentita. 4 e si rimane sul risultato di 2-0 per Giuseppe. Quarta domanda. In quale stadio o in quale città si giocò il quarto di finale contro l'Ucraina? Si prenota Alessandro. Hamburgo? Vediamo. Risposta esatta. Si sblocca Alessandro, si porta sul punteggio di 1-2, rincorre Giuseppe. Lo stadio era il Volkparkstadion di Hamburgo. Io ho chiesto in quale stadio o in quale città, ma andavano bene entrambe le risposte. Hamburgo era quindi esatta. Quinta domanda. Giuseppe 2, Alessandro 1. Si sta per chiudere la prima manche. Quinta domanda. Contro la Repubblica cieca, Inzaghi ritrova il gol con l'Italia dopo più di tre anni. Contro chi aveva segnato? Azerbaijan. Come da telecloraca di Fabio Caressa. Vediamo. E bravo Giuseppe, esattamente. L'Azerbaijan era Italia-Azerbaijan. 4-0 11 marzo del 2003. Si chiude la prima manche con Giuseppe Pastore che si porta in vantaggio momentaneamente sul 3-1 e apriamo la seconda manche. Indovina il dettaglio. Facciamo partire la sigla. 3-1 dunque per Giuseppe Pastore. In momento in vantaggio. Due lunghezze di vantaggio su Alessandro. Adesso c'è da indovinare il dettaglio. Partiamo subito forte. Chi è il giocatore statunitense che prende la gomitata da De Lossi? Si prenota Alessandro. McBride. Vediamo. Esatto. Brian McBride. Quindi Alessandro va sul 3-2. 3-2 per Giuseppe. Alessandro si porta a 2 e accorcia le distanze. Andiamo avanti. Il numero di Simone Barò. Alessandro. 17. Vediamo. Esatto. Numeri come sapete. Qua sta andando fortissimo Alessandro. 2-2 al dettaglio. Si porta anche lui a quota 3. Raggiunge Giuseppe Pastore ed è parità. Terzo dettaglio. Chi è il giocatore che lancia Inzaghi? Qua si è pronotato anzitempo Giuseppe. Perrotta. Vediamo. E' corretto. Simone Perrotta. Grande ritmo in questa seconda mancia. Qui siamo tutti molto convositi. Giuseppe Pastore 4. Alessandro 3. Andiamo avanti. Quarto dettaglio da indovinare. Chi è il giocatore che lancia Iaquinta? Ale. Kufur. Ah ma sei un maledetto. No. Esatto. Perché è vero. Kufur. Chi è maledetto? Alessandro o io? No tu. Ho visto che l'avevo scurato. Ecco perché. Certo. Il Gana. Certo. Kufur. Quindi 4 a 4. C'è l'ultimo. C'è l'ultimo dettaglio da indovinare. Eccolo qua. Quale fu il titolo della. Tutto vero. Campioni del mondo. Corretto. Tutto vero. Ve la facciamo vedere. A giorno il risultato per Giuseppe che si porta a quota 5. Eccola qua la prima pagina della gazzetta. Del 10 luglio 2006. Tutto vero. Italia. Campione del mondo. Ricordo dopo Italia-Slovacchia 2010. Tutto nero. Invece. Fu il titolo della gazzetta. Bella. Ovviamente citava. Allora amici. 5 a 4 il risultato. Ritmo folle. Ritmo folle. Era partito forte Giuseppe. Alessandro è tornato sotto. Ma Giuseppe con questo ultimo colpo. si è riportato sopra. Adesso c'è il gioco dei pixel. Gioco dei pixel. Allora partiamo da Alessandro che ha il punteggio inferiore. Ci sono dei personaggi che devono essere indovinati. Adesso li vedrete con l'immagine pixelata. Giuseppe sta guardando il telefono. Ma tanto. No no ma perché a volte lo dicono. Eh cosa guarda. Intanto sta. Questo turno aspetta. No non ho ancora fatto la domanda. Allora Alessandro non abbiamo neanche fatto vedere il personaggio che abbiamo scelto per Alessandro. Adesso lo faccio vedere. Eccolo qua. Bisogna che tu mi dica chi è. Per adesso provandoci anche senza indizi. Come sapete in questa match massimo di 5 punti. Via via che verranno svelati gli indizi. I punti caleranno fino a un minimo di 1 in caso di in caso in cui Alessandro indovinasse il personaggio misterioso con 5 indizi. Alessandro provaci. Sembra abete. È la tua risposta? Proviamo. Vediamo. Non è abete. Allora io tu sblocchi il primo indizio. Allora gli hanno dedicato uno stadio. Questo non ci sta. È detto così. Più breve. Anche in questo caso i punti sarebbero 5. Con un indizio i punti restano 5. Giuseppe ti si è accesa la lampadina a te? Io ce l'avevo dal pixel. Questo indizio non mi sposta nulla. Però potrebbero avergli in caso lo stadio in effetti. Alessandro. Non mi dice nulla. Allora o ti butti o mi autorizzi a sbloccarti anche il secondo indizio che porta i punti potenziali da 5 a 4. Andiamo con l'altro indizio. Allora è un ex centrocampista. Quindi gli hanno dedicato uno stadio. Ex centrocampista. In questo caso i punti a disposizione di Alessandro sono 4. In chat come sempre scatenatissimi qualcuno lo ha preso. Ricordiamo che sia Giuseppe che Alessandro hanno i tablet giù quindi non possono leggere quello che scrivete. Comunque come sempre bravissimi. Alessandro ancora una volta o ci provi oppure mi autorizzi a sbloccarti anche il terzo indizio. E chiedo il terzo. Terzo indizio. Stavolta vinciamo noi. Ok. Quindi a Giuseppe potrebbe... Non sapevo delle altre due però. essersi accesa la lampadina. Ad Alessandro ancora no. Come sempre. Dimmi te. Andiamo avanti. Quarto indizio. Bronzo a Euro 2008. Giuseppe ce l'ha. Mi sapevo. Terzo, bronzo, terzo. Vabbè ci sono medaglie anche all'Europa Mondiale. In questo caso Alessandro prenderebbe due punti ma ancora non si è accesa la lampadina. Per Alessandro che quando vuole o si ci prova o mi autorizza a dare il quinto indizio. Poi lo so che appena lo vedo di qua è vero. No, nulla, non mi si accende niente. Quinto indizio è qua. Di nuovo agli ottavi. Ah, Gus Hiddink. Esattamente, Gus Hiddink, l'allenatore dell'Australia. Quindi Alessandro prende un solo punto e spieghiamo anche gli indizi per gli amici a casa. Gli hanno dedicato uno stadio perché lui, che era il CT della Corea del Sud, tant'è che dico stavolta vinciamo noi. Come dice Ciboli. E' sempre agli ottavi di finale. Stavolta ti è andata male, disse Ciboli. E' sempre agli ottavi di finale perché al Mondiale del 2002 Hiddink era l'allenatore appunto, il CT della Corea del Sud. Corea del Sud che in cui il Mondiale passò in semifinale, arrivò fino in semifinale, giocando il quarto di finale contro la Spagna, vincendo ai rigori 5-3, nello stadio che verrà dedicato a lui. Proprio per questo incredibile... Doveva rinzionarlo all'armi. In questo incredibile successo. Sì, poi ovviamente ci sono tutte le polemiche. Ex centrocampista, bronzo o terzo a Euro 2008 con la Russia. Allora, un punto per Alessandro che si porta a 5. Adesso vediamo il personaggio pixelato che è stato scelto per Giuseppe. Io qui sono bravo, di solito faccio il vuoto. Vediamo se lo farà anche stavolta. E poi è il gioco dopo. No, è quello dei 10. Eccolo qua. E' un giocatore, è un giocatore di calcio evidentemente. Evidentemente è Jürgen Klisman. E' il tuo? Eh sì. Vabbè ragazzi, che dire. Eccolo qua Jürgen Klisman che aveva messo giocatore. Mentre in quel mondiale lì era il CT della Germania. 5 punti. Un plain subito per Giuseppe che si conferma fortissimo. A questa mancia del dovine. Il giocatore è pixelato. Incredibile. Jürgen Klisman non mi ha fatto neanche dire nessun indizio. Adesso ve lo dico io per completezza di informazione. Ex attaccante. Ha vinto un mondiale in Italia. In Italia 90. 36 gol in Serie A. Ex Inter. Oggi è il CT della Corea del Sud. Ragazzi. E Giuseppe Pastore così se ne va a 10 punti. Grazie. Il biondo più bianco della maglia. Più biondo del pixel. Però io abbiamo ragionato mettendo un calciatore. Magari uno poteva pensare a un calciatore che in quel mondiale fosse in campo. Invece Giuseppe non si è fatto ingannare. Cos'è che ti ha aiutato? Il dettaglio della maglia? Il biondo più il bianco. Però voglio dire ce ne sono tanti. Però bianco la associo della Germania. Biondo lo associo a uno che sta esultando. Incredibile. Stava esultando. E' allenatore ma... Incredibile. Incredibile. Allora. Bene. Andiamo avanti. Perché adesso viene il difficile. Allora. Ecco qua. Allora. Completa la formazione. Va bene? Per Giuseppe c'è questa formazione. Inizio io? Nooo. Bisastro. E' già svelata. Incredibile. Aspetta un po'. Eeeh. Che pensavate? Ma che pensavate? Sapete cosa? Vi chiedo io di questa formazione qua. Avversario. No. Perché. Giustamente no? Abbiamo detto prima. Era difficile. Ma era davvero una gag? È una gag. Adesso ti spiego perché. Adesso ti spiego perché. perché giustamente era difficile fare. Troppo facile anzi mettere il completo la formazione su sette partite. Infatti dovevo andare a parare. Detto. Detto. Però inizia lui. O no? Sì inizia lui. Inizia lui. Va bene. Va bene. Sì sì. Detto che Giuseppe non sa l'argomento. quindi avremmo anche potuto mettergli una formazione dell'Italia da completare. Però per l'equità abbiamo deciso di fare un'altra cosa. Partiamo da Alessandro. Rifacciamo vedere la formazione. Ti stai un po' incartando. No non ti preoccupare. È tutto a posto. È tutto a posto. Rifacciamo vedere la formazione. E qua. Italia tra ieri a 3 a 0. Stavolta. Stavolta. Chiediamo chi entra. Ah. E qua le cose si fanno difficili. Allora proviamo Gilardino, Del Piero, Oddo. Perfetto. Allora un punto per Alessandro che si porta a 6. Io non dico niente. Io non dico niente. Giuseppe può dire gli altri due. Se gli dicessi quello giusto chiaramente partirebbe a vantaggiare. È Oddo quello giusto che è la sua unica presenza in Italia nel mondiale contro l'Ucraina. Dunque non sono Gilardino e Del Piero. Però a questo punto non abbiamo molte altre alternative perché non c'è in quella partita Materazzi che è squalificato. Non c'è Nesta che è infortunato. Non c'è De Rossi che è ancora infortunato. Chi è rimasto? Chi è rimasto in questa squadra? I due portieri ovviamente sono 11, 13, 15, 16 di 18. No, diciamo ne mancano quattro. Quindi sono quello lì, quello lì, me ne manca uno che è quello lì. E Barone e Iaquinta. Allora caro Giuseppe fai un punto solo anche te. Chi sto dimenticando? Adesso intanto aggiorano il risultato. 11, quindi a 6. Perché entra Oddo e l'ha detto Alessandro. Tu, Giuseppe, hai detto ripeti di due. Barone e Iaquinta. E invece no, entra Barone. Il terzo non è Iaquinta ma è Zaccardo che entra al posto di Gennaro Gattuso. Questa è la disposizione in campo dopo le tre sostituzioni. Quindi un punto a testa in questa formazione in cui abbiamo fatto un'eccezione, in questo caso non c'era da completarla, ma da indovinare i tre giocatori che entrano in campo. L'abbiamo deciso così. Quindi, dopo questa formazione Giuseppe va a 11, Alessandro va a 6. Giuseppe adesso c'è la formazione per te che chiaramente, ugualmente ad Alessandro, non devi completare ma mi devi dire chi entra al posto di chi. La partita che abbiamo scelto per te è questa. Italia Stati Uniti. Solo chi entra. Ok, dimmi solo chi entra. Uno sicuro, due sicuro. Il terzo è... Grosso Gattuso del Piero. Allora, Grosso Gattuso del Piero, fai due punti, Giuseppe. Due su tre. Quindi da 11, sali a 13, non dico chi hai preso, Alessandro puoi dire i tuoi tre e vedere se tra questi tre c'è un calciatore, tra quelli che non ha citato Giuseppe, per portarti eventualmente a 7. Giuseppe, tu hai detto? Ripetiamo. Grosso Gattuso del Piero. Perfetto. Credo che Grosso e Gattuso siano quelli due effettivamente entrati. Perché non mettere il timerino, ragazzi? Perché non mettere? Perché no, perché no. Eccolo qua. Così, Alessandro si può prendere ancora 40 secondi per dare i tre giocatori che entrarono in campo dalla panchina. Ci provo, dico Camoranesi. Aspetta. Ci provo, ci provo. Solo Camoranesi? Sì, sì. Beh, l'unico che manca. L'unico che manca non è lui. Adesso vi faccio vedere. Pensavo anch'io fosse Camoranesi. Faccio vedere la formazione che cambia in Italia, Stati Uniti, e vedrete una roba abbastanza strana, ma erano Gattuso, che entra al posto di Totti. Sì, è dieci. Del Piero al posto di Zaccardo, Iaquinta al posto di Lucatoni. Quindi, Giuseppe ha fatto due punti in questa manche, Alessandro nessuno. E quindi Giuseppe va via, scappa. Adesso viene il brutto per me. A sei. Viserion dice, giocavamo in dieci? Sì, perché è la partita in cui Daniele De Rossi, come abbiamo fatto anche vedere poco fa, dà una gomitata a McBride, viene squalificato e torna però in tempo, no? Eh sì. Per la finale contro la Francia. Allora, Giuseppe 13, Alessandro 6. Calci di rigore, classifica dal numero uno al numero dieci. Io stavolta vi chiedo cosa? I dieci giocatori, attenzione, di movimento più utilizzati, cioè con più minuti. Sottolineo di movimento. Allora, attenzione, partiamo da Alessandro che ha il punteggio inferiore. Se Alessandro Azzecchia è il primo, può andare avanti, quindi a occhio, perché qua può fare dieci punti, nel caso in cui non azzecassi tutte dieci e ribaltare completamente tutto. Alessandro. Cannavaro. Vediamo. Esatto, è proprio Cannavaro al primo posto, quindi parte forte Alessandro, Cannavaro al primo posto, Cannavaro, aggiorno il risultato, quindi Alessandro da sei, si porta a sette e può continuare ad andare avanti. Al secondo posto? Pirlo. Vediamo. Esatto, attenzione, attenzione, c'è Pirlo al secondo posto, quindi Alessandro da sette si porta a otto e continua ad accorciare le distanze. Vediamo se prosegue. Perché la palla è sempre tra i suoi piedi. Al terzo posto chi c'è? Poi, come sempre, lo ricordo, diremo i minutaggi di tutti questi calciatori. Cannavaro al primo posto, Pirlo al secondo, vediamo chi c'è al terzo. Alessandro dice Zambrotta. Ma non è Zambrotta, quindi per la prima volta in questi calci di rigore la palla va a Giuseppe. Gattuso. Vediamo. Non è neanche Gattuso e quindi lo svelo io, c'è Perrotta al terzo posto di questa classifica. Mi sono dimenticato di dire una cosa, mi sono dimenticato di dire una cosa. Ci sono in questa classifica due calciatori che hanno gli stessi minutaggi, quindi nel caso in cui di questi due venisse detto prima uno per l'altro, lo conterò comunque come corretto e al termine spiegherò... Nessuno di quelli apparsi però. Per adesso nessuno. Ok, va bene. Allora, non l'ha azzeccato né Alessandro né Giuseppe il terzo che è per Rotta, quindi riparte Alessandro col quarto. Proviamo Tony. Vediamo. Non è Luca Tony, Giuseppe. Zambrotta. Vediamo. Corretto. Gianluca Zambrotta al quarto posto, quindi si risblocca Giuseppe che da 13 si porta a 14 e può proseguire. Giuseppe, dici, prova a indovinare chi c'è al quinto posto della classifica dei dieci giocatori di movimento più utilizzati dall'IP. Gattuso. Vediamo. Non è Gattuso, la palla passa ad Alessandro. E riproviamo Tony. Vediamo. Non è neanche Tony, c'è Fabio Grosso al quinto posto di questa classifica. Al sesto, Alessandro sta di nuovo a te e vediamo se lo indovini. Chi c'è? Gattuso. Vediamo. Corretto. C'è Gattuso al sesto posto di questa classifica. Quindi Alessandro da otto sale a nove punti. Si riporta un po' sotto. Meno cinque la lunghezza di distanza da Giuseppe che per il momento è scappato ma la partita è ancora lunga anche perché Alessandro può continuare a fare punti. Chi c'è al settimo posto? Tony. Vediamo. È bravissimo. C'è Luca Tony al settimo posto. Alessandro quindi va in doppia cifra a meno quattro da Giuseppe Pastore che non può che sperare in un passo falso di Alessandro che ha comunque ancora la palla tra i piedi. Chi c'è all'ottavo posto? Camoranesi. Vediamo. Non c'è Camoranesi. Avrei detto anch'io Camoranesi. Quindi la palla passa a Giuseppe Pastore. E quindi non è un, a meno che, no, non è un difensore, non è un centrocampista evidentemente, andiamo sulle punte. Francesco Totti. Vediamo. Francesco Totti all'ottavo posto di questa classifica, la classifica dei dieci giocatori di movimento più utilizzati da Marcello Lippi. Dopo vi faremo vedere, vi diremo i minutaggi di tutti questi calciatori. All'ottavo posto c'è Francesco Totti. Giuseppe, la palla resta a te. Chi c'è al nonno posto? Ci avviciniamo alla conclusione di questa classifica. Mauro German Camoranesi. Vediamo. Non è lui. Non è lui, quindi ci può provare Alessandro. Gilardino? Vediamo. Non è Gilardino. Al nonno posto c'è Marco Materazzi. E quindi resta solo il decimo da indovinare. Poi vi diremo, vi ripeto, i minutaggi. Alessandro sta a te perché hai il punteggio inferiore, perché il nonno posto non l'ha preso nessuno dei due. Riproviamo Gilardino. Vediamo se è Gilardino. Non è Alberto Gilardino. Giuseppe, puoi chiuderla te? Vediamo. Camoranesi. Corretto. Mauro German Camoranesi al decimo posto di questa classifica. Quindi Giuseppe da 15 va a 16 e prima del dinneventi si mette, diciamo, in una situazione di comfort. Allora, adesso, i minuti di questi calciatori. Cannavaro 690. Tutti. Pirlo 668. Perrotta 615. Grosso e Zambrotta 600. Avevo detto che era chiaramente il caso di parità, avrei contato giusto entrambe le soluzioni. Poi, Gattuso 552, Toni 484, Totti 468, Materazzi 363, Camoranesi 352. Avete detto Gilardino, Gilardino si ferma a quota 305. Si chiude quindi anche la manche dei calci di rigore che vede il risultato sul 16 a 10 per Giuseppe Pastore. Adesso sì, che c'è il momento del dinneventi. Anche qua, con 20 punti in palio, si può capovolgere tutto. Allora, attenzione, io vi chiedo, 20 giocatori che hanno giocato contro l'Italia, ma attenzione, attenzione, attenzione. Esclusi tedeschi e francesi, se no sarebbe troppo facile. Vi dico anche quanti sono in tutto. Sono pochi. Sono 67. Quindi, non sono pochi, io metto anche il contatore. Eccolo qua. Allora, partiamo ancora una volta da Alessandro, che ha il punteggio inferiore, può partire e se ne azzecca 20 di fila. Beh, 20 di fila non può, visto che facciamo una testa. Esatto, ti può far 10 di fila. No, neanche, però fa 10 punti in massimo. Almeno uno, credo di dirlo, dai, lo lasciamo. Comunque, ci sono 20 punti in palio qua, quindi può succedere veramente di tutto. 20 giocatori che hanno giocato contro l'Italia, esclusi i tedeschi e i francesi. Scatenatissimi gli amici in chat, che hanno già iniziato a dire quelli che si ricordano. E lo ricordo, invece, a mia volta ancora, che sia Giuseppe che Alessandro hanno i tablet giù, e quindi non possono leggere. Vai Alessandro, provaci. Chi ti ricordi? Parto dalla prima, il portiere del Ghana, Kingston. Vediamo. Allora, te la do corretta il nome è Kingston, ma ci sta tutto. Perché c'era una... non si capiva qual era, se era Kingston o Kingston. Ci sta tutto, va benissimo, va benissimo. Non vogliamo essere troppo severi. No, 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 è giusto. Quindi un primo punto va ad Alessandro, prima risposta esatta. Adesso sta Giuseppe. Io vado proprio a ruota libera. Chipperfield, dell'Australia. Mi piaceva molto il... Che peraltro è uno di quelli che commenta spesso. Sì, bravo, sempre, sempre commenta. Quindi lo dedico a lui. Risposta esatta, Chipperfield, dell'Australia. Quindi seconda risposta esatta. Giuseppe, che da 16 va a 17 e tiene a distanza Alessandro, che adesso può rispondere. Lo seguo, Grella. Vedi. Risposta esatta anche Grella, sempre nell'Australia. Quindi le risposte per adesso sono tre. Il risultato cambia. Alessandro da 11 sale a 12. La palla adesso va a Giuseppe. McBride, a cui De Rossi aprì uno zigomo con grande elegante. Giusto, bravi, bravi. Perché comunque vi ricordate anche di quelli che abbiamo citato prima. 18. Stavo perdendo Zaccardo. Per Giuseppe, 12. Non era l'avversario. Per Alessandro, che adesso può rispondere e riportarsi a meno 5. Kufur con l'assist più bello del mondiale. Eh sì. Giusto, giusto. Quinta domanda esatta. Alessandro che si porta a 13 e per il momento tutte risposte esatte. Poi man mano che andiamo avanti sicuramente le cose si faranno più difficili. 18 a 13. Giuseppe. Peter Cech, Repubblica Cech. Corretta, anche questa. Sesta risposta esatta. E il risultato che cambia ancora, Giuseppe, da 18. Sale a 19. Ancora un ottimo margine. Ma Alessandro è partito forte anche sul dinneventi. Quindi non sta mollando. Anche se parte un po' indietro. Vai Alessandro. Nedved. Pavel Nedved. Vediamo. Già. Corretta. Corretta anche questa. Botta a risposta che continua. Settima risposta esatta del dinneventi. Alessandro da 13 si porta a 14. Giuseppe. Vado anche qui. Bocca Negra, Stati Uniti. Giusto per... Giustissima. E qua iniziano a venire fuori i primi nomi un po' più esotici. Anche se C per fi diciamo che aveva già aperto le danze. Giuseppe va a 20. Alessandro lo segue a distanza a 14. Vediamo se si porta a 15. Bisley. Dona annullato mi pare. Dona annullato. Corretto. Corretta anche questa. Quindi risposte esatte salgono a 9. Così come il punteggio di Alessandro che da 14 sale a 15. Giuseppe puoi rispondere. Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko dell'Ucraina contro l'Italia ai quarti di finale. Decima risposta esatta. Giuseppe che mantiene le distanze di sicurezza. Sale a 21. Alessandro è a 15. Vai Ale. Keller. Vediamo. Come no? Corretto anche Keller. Il portiere degli Stati Uniti. Alessandro da 15. Si porta a 16. Giuseppe. Gian Asamoa Gana. Asamoa Gian o Gian. Bisognerebbe sentire. Ah tu dici Gian proprio. Non lo so. A Modena lo chiamavano Gianni per assunanza. Quello che chiamava Modena. Fatto sta che la risposta è esatta. E quindi ti porti a 22 punti ancora. Mantieni un buon margine su Alessandro. Che però in questo DIN 20 sta rispondendo colpo su colpo. Vediamo se è continuo. Sta a te Alessandro. Shovkovsky. Vediamo. Corretta. Shovkovsky. Portiere dell'Ucraina. Un nome pazzesco. Mi faceva impazzire. Però anche lui purtroppo contro di noi. Non ha passato una bella serata. 3 a 0. E via. Giuseppe 22. Alessandro 17. Giuseppe sta a te. Kalinichenko. Ucraina. Bravissimo Giuseppe. Corretta anche questa. Kalinichenko dell'Ucraina. 14esima. Risposta esatta. Giuseppe che si porta a 23. Alessandro. Barosch. Andiamo. Milan Barosch della Repubblica cieca. Altra risposta esatta. Credevo di essere stato un po' troppo cattivo. e invece qua sta venendo fuori la preparazione sia di Alessandro che del grande Giuseppe. Che ricordo ancora una volta anche oggi non sapeva l'argomento. Eppure guardate dov'è. 23 a 18. Giuseppe. Barth questo per i tuoi trascorsi a tifoso Viola. Eccoci. With a Lusi. Magari non ha giocato. No. Attenzione. Non ha giocato. No. Non ha giocato. Certo che avesse giocato. Non ha giocato ragazzi. Fammi ricontrollare. No no. Non c'è. Non c'è. Quindi Giuseppe si ferma. Giuseppe si ferma. E Alessandro può accorciare ulteriormente le distanze e portarsi a meno 4. Ci sono ancora 5 risposte da dare. Quindi ancora tutto aperto. Alessandro. Jankuloski. Andiamo. È corretta. È corretta. Sedicesima risposta corretta data. Alessandro che sale a 19. Quindi il primo stop di Giuseppe fa mettere pressione allo stesso Giuseppe, scusate, da Alessandro che accorcia le distanze e gli mette il fiato sul collo. Vai Giuseppe. Rosicchi. Vediamo. Corretta, corretta. Si rifà subito Giuseppe. Risposta esatta. Numero 17. Giuseppe Pastore si porta a 24 e stavolta. Non sbaglia. Alessandro sta di nuovo a te. Reina. Indicati Uniti. Sì, 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 sì. Reina Stati Uniti, vediamo. Corretto. Corretto. Reina che tra l'altro, non reina quello del Napoli chiaramente, reina con la Ypsilon che tra l'altro, correggetemi se sbaglio, è parente del giocatore, il padre del giocatore che gioca al Borussia Dortmund. Alessandro 20, Giuseppe 24, restano due risposte, quindi diciamo che l'esito si è indirizzato, ma andiamo avanti. Giuseppe. Dunque. Come si chiamava? No. Mastroeni. Stati Uniti. Corretto, anche Mastroeni. Che nome curioso che aveva. Non sbaglio quella partita. Adesso andiamo a verificare subito, intanto ti aggiorno il risultato. Giuseppe che sale a 25, adesso vi dico subito Mastroeni Rosso, esattamente. Mastroeni Rosso al 45esimo per fallo grave, c'è scritto nel tabellino. Alessandro, l'ultimo punto di questa sfida, se te lo vuoi giocare, è il momento. A Cerundolo. È corretto, c'è Cerundolo che è degli Stati Uniti, quindi Alessandro va a 21, ma non prende Giuseppe Pastore. E non ci prendono più, come dice Martellino. Non ci prendono più Giuseppe Pastore che torna a vincere lo sfida Pastore dopo tre turni di sofferenza e di amaro in bocca. Posso dire sempre Gussi Hiddink comunque c'era di mezzo. Eh, io guarda la differenza esatta la faccio sempre sull'identikit alla fine. Il 5 punti lì è la mia cassaforte, quindi grazie a Jürgen Klisman. Allora Giuseppe, tanto comunque facciamo i complimenti anche ad Alessandro, grazie di essere stato con noi. Tra l'altro quant'anni avevi? 11 anni? No, a meno, sono del 97. 96, 8 anni, 9 anni. Beh, vincere un mondiale a 8 anni è bellissimo. E infatti è fatto innamorare della nazionale subito. E sai, il mio primo mondiale è del 94, avevo 8 anni. Quindi il calcio è, come dire, il calcio è quel mondiale lì, quindi deve essere stato un inizio... Sì, bellissimo. Cioè anche quasi triste che non si può più fare meglio alla fine. Ci siamo ripresi con l'europeo. Esatto, esatto. Giuseppe, tu che venivi da questa serie di tre sconfitte consecutivi e adesso ti sei riscattato, sveliamo quanto mi hai detto prima della puntata, hai detto ho promesso che oggi avrei vinto. Beh, ho promesso, non è che ho fatto cose, diciamo, urbi e torbi. Però queste tre sconfitte di fila mi avevano tutte poi per il punto, per il dettaglio. Quindi, beh, argomento comunque quasi nazional popolare. Quindi devo dire che hai portato un argomento, come dire, difficile... Da sbagliare. Non da sbagliare. Cioè, è un argomento che tendenzialmente... Sanno un po' tutti, certo. No, sì, però, diciamo, se vai sulla scuola di club è più difficile, più magari sulla nazionale, nel 2006 è un momento difficile, cioè hai voluto sfidare su un terreno... Sul mio primo amore. No, no, infatti, che è sicuramente il tuo... Deve essere questo, deve essere così. Però, ecco, purtroppo è un argomento, come dire, molto... Funziona così, bisogna portare un argomento vostro. Salvatore, chiedi dove ci si candida. Info, chioccio alla cronache di spogliatoio.it, con l'argomento che dovete ritenere vostro... Guarda di queste sette partite, ricordi. ...che volete portare per vincere, come ha fatto Alessandro, sull'Italia... Quale è la tua delle sette partite e qual è la tua preferita? Con la Germania. Eravamo tanti in casa e abbiamo fatto esplodere il soggiorno. Sono d'accordo. Giuseppe, tu dove eri? Io ero a casa di un mio amico... Sì, 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 ero dove ho visto tutte le partite, in realtà, quasi tutti. Sicuramente quarti, sia in finale, nella stessa casa, del mio amico Vito, che saluto. Ed era... E Vito comunque Milan. Proprio lui, esatto. È grande, è grande. Salutiamo. E ricordo, certo, un entusiasmo, una gioia incredibile al gol di Grosso, che... Sai che non mi ricordo qual era lo stato d'animo prima, cioè, siccome mancano due minuti ai rigori, e quindi era possibile che tutti ormai pensassimo, anzi è quasi certo che pensassimo ai rigori, però non ricordo il pensiero dei rigori, cioè, forse, visto che stavamo attaccando comunque per tutto il secondo tempo supplementare, forse pensavo ancora a poterla vincere anche se mancavano due minuti. Io ricordo benissimo. Già l'assegnato? Da bambino come si vive? Come si visse? Eh, raccontaci. Molto spensierato, nel senso, molto ottimismo fino a quel momento, quindi eravamo qua, almeno io ero molto convinto che avremmo vinto. Poi dopo un palo, una traversa, cioè... Sai che io mi ricordo, invece, uno stato d'animo completamente diverso, quando io avevo otto anni, per il Mondiale 94, l'Italia-Nigeria, quando l'Italia è di fatto a un passo dalla sconfitta agli ottavi, e ricordo che la Nigeria vincevano a zero, e c'era anche questa telecronica di Bruno Pizzul molto funerea, devo dire, perché la sensazione era quella, arrivamo anche in dieci, e ricordo che mio padre mi disse, durante tutto il secondo tempo, di grande difficoltà, io ero veramente abbattuto, guarda che pareggiamo, guarda che pareggiamo, e alla fine pareggiamo con Roberto Baggio, al quale ho sempre voluto benissimo, l'ho sempre adorato da quel momento, e quindi sì, alla fine, vedi, il bambino si fa condizionare anche da ciò che lo circonda, probabilmente. Invece tu, Alessandro, prima di entrare in live, mi raccontavi di come vivevi quelle partite, della sensazione di superiorità, passami il termine che provavi, cioè convinto che avremmo vinto, tant'è che, hai raccontato, adesso te lo faccio riraccontare per tutti gli amici a casa che continuano a seguirci, quando fa gol Zidane su rigore, cosa fai? Quella è l'unica occasione del Mondiale in cui siamo sotto, fin dall'inizio, e dal settimo, affinché non pareggiamo, lacrime, solo lacrime, perché era la prima volta che eravamo sotto e lì è stata la prima volta dove ho detto ah, possiamo anche perdere allora questo Mondiale. Ma invece come hai visto l'attestata di Zidane, che racchiude tutta una serie di significati, di stati d'animo, anche difficili da cogliere per un bambino? Sì, infatti credo di non averla vissuta con la stessa gravità, con cui magari l'hanno vissuta i miei genitori, i parenti. E tra la te cosa diceva, cosa commentavano? Era un po' senza parole, mai vista una cosa del genere, chiaramente, anche adesso rivedendolo. Certo, certo. Comunque ragazzi vi posso dire che tutte le volte che riguardo quelle immagini... Tu quant'anni avevi Bart? 13, anzi 13, 12, 13 ancora da compiere, e volevo rispondere anche alla domanda sulla sensazione pre-rigori. Io, classe 93, venivo da una serie di delusioni clamorose ai calci di rigore. Non vorrei sbagliarmi, ma non mi pare di aver mai vissuto, prima di quella finale lì, l'otteria dei calci di rigore in cui l'Italia vince, e quindi ero completamente terrorizzato. 2000 gli europei quelli con l'Olanda, però erano europei. Vero, vero, io ero piccolo, non me li ricordo, anche se è vero, effettivamente a Firenze le prestazioni di Toldo furono esaltate parecchio, sì. Però, soprattutto anche con la Francia, i precedenti non erano molto favorevoli a noi, con quel quarto di finale di Francia 99. Però io ricordo che la sensazione di una Francia con Zidane e Spunso in quel modo pendeva dalla parte dell'Italia ai rigori. Avevamo sofferto, tutti i supplementari, quindi arrivare dopo aver giocato peggio ai rigori era un po' un affare, perché insomma, tutto sommato, poteva andare peggio. Quindi, secondo me, poi, in effetti, secondo me andò anche un po' così la calotteria dei rigori. Cioè, l'Italia li tirò tutti benissimo, anche perché eravamo un po' rinfrancati dall'aver scampato il gol sull'entari. La Francia, invece, avendo perso il loro, oltre ad essere il loro miglior rigorista, tra l'altro, il loro capitano, erano tutti... Però, segnerano tre rigori su quattro perfetti, in realtà poi Tresechi sbaglia per tre centimetri, quindi è tutto... Tresechi, quel famoso, lo conosce. Eh sì, infatti, vado dall'altra parte. Esatto, sì, sì, sì. Va bene, ragazzi, è stata un'altra bellissima sfida che ha visto Giuseppe tornare a vincere. Questo sfida pastore dopo tre turni in cui era stato battuto, ma all'ultimo, ricordiamolo anche, che nell'ultimo sfida pastore, quello in cui il nostro concorrente di due settimane fa aveva portato l'Inter di Cooper, Giuseppe si era sbagliato proprio nel match point che aveva tra le mani, dicendo Wizz & Lotz invece di Wizz la Cracovia quando gli veniva chiesto le 20 sconfitte dell'Inter di Cooper, vero? Che grande amarezza. Grande amarezza, però è emblematico, un errore emblematico di uno che sa veramente tutto, viene qua non preparato, chiaramente, perché non sa l'argomento, e allora si confonde con due squadre polacche che iniziano con la W, direi che ci sta. Ci sta, ci sta. Alessandro, prima di chiudere ti volevo chiedere se volevi fare un commento, salutare qualche amico a casa, oppure raccontare a chi ci segue l'esperienza che hai vissuto con noi, da parte nostra è stato veramente un grande piacere. Siete stati molto accoglienti, davvero, molto gentili, anche scambiare due chiacchiere prima con te è stato bello. Ti ringrazio. Una bella esperienza, davvero. Perfetto, allora ragazzi, è il momento di chiudere e darvi la buonanotte. Giuseppe, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi. Grazie ancora una volta a te, Alessandro. Grazie anche da parte mia, Cosimo Bartoloni, Kronach Live torna domani alle 14, quindi tutti qui. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Grazie. Grazie a tutti.